A me fa favorissimo questa espansione, perché secondo me, non dico che il meta si sposterà tutto su questa espansione, ma è forte, è forte, cioè il matchup, un matchup Dark Tidings contro una qualsiasi altra espansione, Dark Tidings è sicuramente in vantaggio perché ha una meccanica in più, quella della marea. Gli altri sono tutti in svantaggio e devono pagare vincoli. Comunque grazie Robert per il Prime addirittura, grazie mille, grazie mille. A provo secondo me non sarà così sbilanciato perché gli effetti non sono così forti, questo è vero, questo è vero, però al momento sappiamo soltanto 70 carte su non so quante, su 300 e passa che dovranno essere. Poi sappiamo tutti com'è Keyforge, succederà sicuramente che uscirà qualcosa di sbilanciato, secondo me saranno bellissime le partite da vedere, Dark Tidings contro Dark Tidings, ma le partite, quelle che appunto c'è, si scambiano la marea, combattono per la marea, ci saranno le meccaniche della marea che interagiscono l'una contro l'altra, tutte le altre espansioni contro Dark Tidings saranno veramente svantaggiate. Vedremo, 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 è presto per parlare ma questa è la mia impressione. Un'altra spada a favore di questa espansione è l'idea dell'Evil Twin. L'Evil Twin io sono saltato dalla sedia quando ho letto questa cosa qua perché queste sono le cose che soltanto Keyforge è capace di fare. Modificare l'algoritmo del gioco che genera i mazzi casualmente con combinazioni di carte e genera un mazzi con lo stesso nome ma con carte, con lo stesso nome, le stesse carte, gli stessi identici mazzi ma vengono convertiti in carte diverse perché è il gemello malvagio. Cioè sta cosa qua veramente per me esprime quello che in passato dicevo, chiamavo, il potenziale creativo di questo gioco. Cioè il potenziale creativo di Keyforge rende finalmente giustizia secondo me con questa roba qua dell'Evil Twin. Cioè sfruttare l'algoritmo come si deve è così che si fa. Quindi sono veramente veramente contento di questo Evil Twin e sono già dell'idea che io voglio giocare soltanto Evil Twin prossima espansione così ma solo per dire cioè i mazzi malvagi, vaffanculo però vedremo, vedremo, vedremo. Quindi adesso diamo un'occhiata agli spoiler, tutti gli spoiler che sappiamo fino ad ora. Sono 70 carte ma le vediamo in modo molto veloce. L'analisi delle carte per casata così lo faremo ovviamente più avanti. Poi adesso cercherò di stare dietro con gli spoiler man mano che escono. Allora vabbè, la marea l'abbiamo vista. Qua abbiamo già il primo Evil Twin con un Fight Ruba 2 che onestamente non si vede l'armatura ma spero che ce l'abbia perché è un 3 che deve combattere, sì, forte contro illusione ma contro tutto il resto trada contro solo i due probabilmente. Quindi non è un granché. Questa è la versione malvagia del Capitano, questo qui, guardiamo prima il Capitano. Capitano dice, quando controlli altre creature con illusione, taunt, veleno e schermaglia, il Capitano guadagna quei... Carino, carino, nulla da dire più che altro che è un 6 di forza, pulito pulito, è una carta che regge benissimo da solo, in più può avere... C'ha solo da guadagnare, c'ha solo da guadagnare perché vale per qualsiasi creatura all'interno del campo da gioco, quindi anche le carte dell'avversario. Bellissimo, bellissima anche la versione malvagia, a me piace tantissimo. Effetto opposto che toglie a tutte le creature gli effetti delle keywords, bello, bello, bello. Poi le artwork, quelle delle Evil Twin sono veramente, veramente tanta roba. Comunque arriverà la streaming, quella dove votiamo le carte. Abbi pazienza, adesso sappiamo soltanto i primi spoiler che ormai adesso è una questione di tempo, ogni giorno che passa usciranno sempre più spoiler, come avete visto Arconte del Crogiolo che saluto ha avuto l'esclusiva di presentare due carte e piccolo spoiler, a quanto pare anche io verrò introdotto in questa campagna pubblicitaria da parte di Fantasy Flight, delle esclusive, solo che sono uno degli ultimi probabilmente che farà questa cosa qua. Prima c'è Team GG e io a quanto pare dovrò farlo a marzo. Spero che mi diano delle belle carte orribili così posso insultarle subito e ci divertiamo un sacco. Poi va bene abbiamo sto EGAD che va bene non si legge, poi abbiamo un RIP, se la marea è alta il tuo avversario scarta una carta casuale dalla mano. Allora, non mi piace tanto questa carta perché è un 2 senza illusione, ha un effetto raccolto, però capite qual è il discorso, cioè questo qua è un effetto che è già stato utilizzato e pluri utilizzato da tantissime carte lungo la storia di Keyforge e questa carta qua ha questo effetto molto conosciuto solo se la marea è alta. Cioè, adesso, non è sto granché, però capite bene che nel matchup contro altre espansioni che non gliene frega niente della marea, questa qua è una carta che funziona ed è antipatica, antipaticissima, cioè l'effetto di scartare le cose dalla mano sappiamo tutti che va bene, nei formati come Adaptive, dove ci sono i vincoli eccetera, è estremamente forte. Poi è uno di quelli effetti randomici che ti fanno sfasare. Comunque, oh grazie Joe per il Prime, mamma mia, troppo gentili, troppo gentili. Poi, vabbè, abbiamo il Tide Warp, ecco qua carta che abbiamo appena visto che alza o abbassa, diciamo, la marea in base alla situazione all'inizio del tuo turno. Anche qua, oh, cioè, se un avversario di un'altra espansione ti alza la marea, si alza la marea tanto per solo per romperti le palle, tu te la alzi a gratis, cioè, cosa bisogna dire d'altro? Basta, se no continuo a ripetere questa cosa qua, quindi avete capito che secondo me il matchup Dark Tidings contro le altre espansioni è un matchup sempre comunque favorevole per Dark Tidings. Poi il matchup Dark Tidings contro Dark Tidings è da vedere. Poi abbiamo questa morena elettrica, bai la morena, dopo che la tua marea è stata alzata, lo ripristini, dopo che l'avversario ha alzato la marea, lo esaurisci, ok? Raccolto, archivi una carta. Puoi fare veramente tante porcate con questa bai la morena, cioè, bella, 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 ed è un uncommon, quindi a me piace tanto, a me piace veramente, veramente tanto questa morena, perché, rifaccio il discorso, contro le espansioni che non mi frega niente della marea, questo qua ti ripa due volte, può riparti due volte e archiviare due, bella, bella, veramente, veramente bella. Ah, la morena, la morena. Poi abbiamo, cos'è, dimentica, perdona, dimentica, non mi ricordo nemmeno più le traduzioni in inglese, scusate, sono fuso, eh, ho studiato tutto il giorno, più o meno oggi, e ho giocato anche una partita del Cat e ho succato a bestia, porca miseria, mamma mia. Vabbè, anche queste carte qua, che ho visto che verranno introdotte in questa espansione, quelle che ti permettono di scegliere uno. Non è una novità nel gioco di carte, questa cosa qua, ma a me piace tantissimo. A me piace tantissimo perché avere scelta è sempre una cosa bella. Cioè, archivi due di differente tipo dalla tua pelle dagli scarti, sticazzi, sticazzi, forte, forte. Oppure, eppura fino a due carte da ogni pila degli scarti. Forte anche questo effetto qua. Fortissimo anche questo effetto qua. Non ha ambra, fortunatamente, questa carta qua, perché se no sarebbe veramente sbroccata, ma anche solo per l'effetto archivi a due carte di differente tipo dalla tua pila degli scarti, è veramente fortissima. Veramente, veramente fortissima. Ed è un uncommon, eh. È un uncommon, miseria. Cioè, ripeto, a me fa paurissimo questa espansione. Fa veramente paurissimo. Poi vabbè, vediamo i santum, magari vediamo un po' di schifo, ma in realtà... No, perché secondo me anche i sanctum sono veramente, veramente forti. Allora, vabbè, abbiamo Lary of the Lake, che nella sua versione Evil Twin, quando la marea è alta, guadagna più 5 armatura. Va bene, diventa un ciccione che non fa tanti danni, chi se ne frega. Questa carta qua, con questa artwork, a me piace un macello. Non si vede benissimo, ma sembra fichissima, con sto martellone. Chissà che cazzo deve fare. Poi abbiamo Dry the River. Ogni creatura guadagna, quando la marea è bassa, non può raccogliere. Cioè, anche qua, giochi questa contro un'altra espansione, che non gliene frega nulla della marea, e tu gliela abbassi. L'avversario è costretto costantemente a tenerla alta, sta marea. Pagare vincoli, vincoli, vincoli. Raga, no, no, no. A me spaventa tantissimo questa espansione. Poi abbiamo, ecco qua, la prima carta che ci ha svelato... No, non è la prima, la seconda carta che ci ha svelato il nostro caro Arconte del Crogiolo. Scegli una creatura amica. Se il suo vicino, alla sinistra, condivide la casata con lui, guadagni 1 e ripeti questo effetto. Capite bene che questa carta, se supportata con un archivio, o con un mazzo, diciamo, costruito da girarci attorno a questa carta qua, è veramente forte. Poi vabbè, conosciamo già carte da parte di Sanctum, che bustano ambre a gratis, sin da richiamo degli Arconti. Però è bella. A me piace veramente tanto l'idea di questa carta qua. Poi abbiamo... Scusate, non sto più leggendo i commenti, perché mi faccio prendere dalle carte. Quell'artefatto da solo ti vince le partite. Grazie, sono contento che... Concordiamo. Poi abbiamo un angelo, bello. Un anjo. Cos'è spagnolo sta roba? Vosè puoi invertere os valores de poder. Vabbè. Puoi scambiare la forza e l'armatura del Lightsmith Clavier per il resto del turno. Ok. Sono contento che magari vediamo gli angeli in questa espansione. Di certo questo qua non è una di quelle carte rare che vogliamo vedere, almeno per quanto riguarda me. Poi... Sì, è un effetto, diciamo, versatile in base al match-up, eccetera, ma non mi dilungherei troppo. Questa carta qua. Questa carta qua, invece, io la trovo fortissima. Cioè, anche questa carta che ci è stata mostrata da Arconte, reset the tide, cos'è? Asciuga tutto. Non è né bassa né alta la marea, insomma. I giocatori non possono alzare la marea fino all'inizio del tuo prossimo turno. Allora, questa carta qua, più vedremo... Cioè, è sempre... Rientra un po' in quel discorso di Sanctum, che Sanctum deve sempre essere antisinergico con tutto il resto. Cioè, Sanctum è sempre stato così. C'ha sempre quelle carte antisinergiche che... le odiamo, ma allo stesso tempo le possiamo amare. Cioè, più vediamo effetti forti attraverso la marea, più questa carta qua, secondo me, è veramente, veramente forte. Cioè, non ce n'è. Nel match-up, ovviamente, contro altre espansioni, non è un granché. Ma questa carta qua, secondo me, può veramente fare delle porcate. Perché, spoiler brevemente sotto, ci sono carte che, se la marea è alta, rubano due quando entrano. Immaginate giocare questa carta qua nel momento giusto, perché sapete che l'avversario si è archiviato con le carte là che rubano. Se la marea è alta, voi lo fregate. Fino all'inizio del vostro prossimo turno. Quindi, dai, bella, 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 bella. A me piace. Poi, vabbè, queste le conosciamo. Quando la marea è alta, ogni creatura amica guadagna più due armatura. Onestamente, io preferisco la versione questa qua, che è quella evil, onestamente. Anche qua, questa è una classica comunaccia al Marshall che interagisce con la marea, cosa che le altre espansioni non avranno mai. A parte quelle future, vabbè. Abbiamo finalmente un effetto di Ember Control carino, solita cosa di Sanctum, adesso il quesito che ci rimarrà di Sanctum è riuscirà Sanctum per questa espansione dare value come si deve alle catture? Perché alla fine è sempre stata questa la debolezza di Sanctum, che, cosa che invece i Sauri hanno sempre compensato bene, di fatti i Sauri di WC sono fortissimi, noi vogliamo dei Sanctum che riescano a dare una value bella alle catture. O meglio, non solo Sanctum, vanno bene anche carte delle altre casate, che siano ombre, che siano Sauri, ma vogliamo vedere carte che diano valore a queste catture. Se no diventano, rimangono sempre i Sanctum della solita Solfa, insomma. Andiamo avanti, sta carta qua non si vede, poi abbiamo l'Electric Ambrosius Evil Twin, volevo, non è uscito anche quello normale di questo? Ero convinto di sì, potrei sbagliarmi, potrei sbagliarmi, mi sbaglierò, vabbè. Bello, bello a me, a me piace tantissimo questo, cioè raccolto metti il segnalino ignoranza su una creatura, quella creatura, gli effetti, il textbox degli effetti è considerato vuoto. Insomma, cioè questa qua è la prima, una delle poche carte che diciamo silenzia le carte degli avversari. Infatti, io adesso non so se l'avevo fatto con le carte quelle fan made, sapete che non mi ricordo, però sono abbastanza certo che sta cosa qua del segnalino silenzio ci avevo pensato tantissimo. Che non è sta cosa innovativa, ovviamente, eccetera, però bella, bella. Immaginate se inizia a prendere piede questa cosa qua dei segnalini ignoranza, del fatto che vengono silenziate le creature, immaginate le porcate che si possono fare con una roba del genere. Sono veramente infinite, infinite le porcate che si possono fare. Poi abbiamo l'Evil Twin di questa carta qua, bestia da 12. Quando la marea è bassa, gli vengono inflitti il doppio dei danni, va bene, è un 12, raga. Sti cazzi! Un 12 che non entra stannato, che non... Guarda, se mi vuoi fare pure il doppio dei danni, fai pure, io sono un 12. Sì, non è quella carta che ha effetti di ember controllo spaventosi, che fanno subito qualcosa, difatti non sono un gran fan di questa carta, però è un 12, è un fottuto 12. Cioè, parliamone, parliamone. Vabbè, Schill e Cariddi li conosciamo. Le navi. Allora, è che io sto già pensando, io non mi sono ancora fatto un'idea su queste navi, ma al momento l'impressione è che mi facciano veramente schifo. Cioè, troppo lente. Troppo, troppo lente. Allora, tu metti giusto coso che non ha ambre, che non ha niente. Ok. Azione, esaurisci fino a 5 creature che devono essere per forza sauriane, infliggi uno a ogni creatura nemica per ogni creatura esaurita in questo modo. Ok. Bello perché rendono, diciamo, versatili i tuoi sauriani, gli danno quel qualcosa in più, però io perché dovrei rinunciare a 5 raccolti per fare Borkriar, dico io. Sì, dipende dal matchup, è una valutazione che deve fare il giocatore, questo. Però, onestamente, a me non piace. È che io sto già pensando alla nave quella Selvaggi che veramente non mi piace. Non mi piace. La nave invece quella delle ombre è incredibile. E ci arriviamo. Comunque, vedremo stenavi, vedremo stenavi. Poi abbiamo questa azione qua. Se la marea è alta, muovi uno da ogni creatura alla pool del suo controllore, altrimenti alza la marea. Bello. Bello. Allora, è una carta matchup dipendente, oserei dire, però a me piace. A me piace veramente tanto, perché è una di quelle carte che dà valio alle catture. Se trovi questa carta qua, che è uncommon, non so se è una fortuna o una sfortuna il fatto che sia uncommon, ma secondo me ci sta, è una carta che vogliamo vedere insieme alle catture Santum. Una carta del genere. Che ne dite? A me sembra una bomba questa. Se messa in un mazzo giusto. Bella, bella. Poi abbiamo il cavallo di Troia che onestamente l'ho visto per la prima volta oggi, quando stavo preparando la live, diciamo. È incredibile. È una bella carta meme questa qua. Non mi piace, ma è una bella carta meme. Tu giochi questo artefatto sotto il controllo dell'avversario. L'avversario ha questo artefatto con effetto omni, guadagni 3, l'avversario rivela la sua mano e mette in gioco tutte le creature, redi e ripesca la mano come se fosse lo step del draw e distrugge il cavallo di Troia, chiamiamolo così. È una merda. Cioè, a me non piace. A me non piace perché comunque la scelta sta all'avversario. come utilizzare questo cavallo e sicuramente lo utilizzerà bene. Cioè, immaginate anche solo, che ne so, che lo utilizza per guadagnarsi 3, vi fa giocare tutto e vi tira un assioma, un portale, un portale che non c'è più perché dis non c'è più, però, no, 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 no. Cioè, a me non piace tanto perché comunque, mal che vada, mal che vada, l'avversario non lo uso mai sto coso qua. Se invece vedremo in questa espansione magari carte che ti permettono di utilizzare gli artefatti dell'avversario, wow, cioè, secondo me diventerebbe incredibile. Potresti fare le combo con il cavallo di Troia. Cioè, adesso, no, in realtà no. Perché se io utilizzassi il cavallo di Troia significa che poi è l'avversario che gioca tutte le sue carte. Quindi, vabbè, in realtà, se voi avete una rimozione, un qualcosa che vi permette di utilizzare il cavallo di Troia e fare burklier e guadagnare tre, perché no? Bello! Però capite che è un'eventualità esagerata. E poi, qual è quella casata che controlla bene gli artefatti e distrugge bene tutto. Dis, discare non c'è più. Poi abbiamo il censore. Censore non può subire danni, non può essere danneggiato da creature con ambra su di essa. Wow, bello. Matchup dipendente, ma bello. Mi piace. Molto carino. Poi, abbiamo la versione normale del tizio di prima. se la marea è bassa non infligge danno quando combatte, va bene. Onestamente preferisco la versione cattiva, diciamo, quella che prende un po' più di danno. Sai che non lo so, in realtà sono abbastanza uguali, cioè, boh, vabbè, sono ciccioni, sono ciccioni. Scusate, cosa è che state dicendo? Assioma rip, situazionale, al momento fa cacare, ma spero in bene, gargodonte eredità, non entra storia, assordito, fortissimo, se, ciao, congiunzione astrale, sì, no, 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 abbiamo tutti ragione su questo. Poi abbiamo, iniziamo con le ombre, attenzione, allora, capitano senza barba, taunt, distrutto, ogni vicino del capitano senza barba, versione cattiva, cattura uno. Vomito, diciamo vomito, in realtà avere un taunt in ombre, è bello, secondo me, poi bisogna vedere un attimo come saranno queste ombre, però, a me spaventano, a me spaventano tanto. Poi abbiamo, queste qua sono tutte evil twin, va bene, freebooter, feia, va bene, lo giochi, alzi la marea, prima del combattimento, se la marea è alta, non si sa cosa fa, penso che rubi uno, prima del combattimento, rubare uno, io dico che è good, questa qua è veramente good, se è così, poi se cattura uno, vomito, però, già solo il fatto che entra, alza la marea, fa qualcosa, in più, before fight, se ruba uno, è veramente, veramente forte, secondo me. poi, abbiamo, hard simpson, sempre versione, evil twin, se la marea è alta, una creatura danneggiata, cattura dal suo lato, carino, carino, perché lo fa in raccolto, questa cosa qua, è un effetto tipico di Marte, diciamo questo, bello, va bene, non ha illusione, però, al doppio delle statistiche, di una ombra normale, diciamo, carino, carino, poi, è sempre un'eventualità, in base alla marea, poi, abbiamo il monello di mare, cattura due, se la marea è alta, ruba due, Jesus, quanto è forte, la versione cattiva, del monello di mare, puttana, no, spettacolare, spettacolare, cioè, vabbè, adesso, sto pensando di fare un confronto, con qualche altro monello, ma, questo qua, è un signor monello, e dai, è veramente, veramente forte, poi, abbiamo, finalmente, forse l'unica nave decente, mi sa che sarà l'unica nave decente, poi bisogna vedere quelle delle altre casate, però, può esaurire fino a due creature, fortuna, fortuna, ovviamente creature ombre, per ogni creatura esaurita in questo modo, ruba uno, è un artefatto lento, però capite bene, che nel momento in cui c'è giù questa nave, e vengono giocate anche solo cartacce, come il monello, o, che ne so, due monelli, quei monelli, o questo coso qua, o questa nave, devono essere contestati, sennò rubano costantemente, forte, questa nave è una signora nave, questa, questa mi, mi spaventa tantissimo, rispetto alle altre navi, ovviamente, poi, abbiamo il capitano senza barba, quello normale, ogni vicino del capitano senza barba, guadagna no taunt, raccolto, cattura uno, bello l'effetto, bella l'idea, però, poi, cioè, a me piace questa cosa qua, che mette i taunt ai vicini, quindi, cioè, la rende una carta che sinergizza bene, con determinate casate, tipo, un dodici, un dodici che gli dai taunt, non è male, può fare il lavoro del simulacro, è un peccato che non gli hanno messo un effetto, tipo, rip, ruba uno, sarebbe stata, fortissima, bellissima, però, è una rara, questi cazzi, poi abbiamo l'hard simpson normale, elusione, dopo che è stato inflitto danno ad hard simpson, ruba uno, se la marea è bassa, l'avversario ruba uno, anche questa è una carta matchup dipendente, secondo me, contro dark tidings, fa schifo, contro le altre espansioni, è una bomba, perché nel momento in cui la giochi, l'avversario è costretto a dover interagire con la marea, e quindi andare a vincoli, carino, 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 poi abbiamo jacky tar, una comune, aspetta, guardiamo le rarità, allora, il monello di mare cattivo, non possiamo guardarlo, perché è un evil twin, quindi, fortunato quello che troverà l'evil twin, del 90 di sas di turno, però, che magari, diventerà un 70 di sas, però considerato questo tipo di monello, non lo so, magari mi sa che è proprio l'evil twin, che diventa un 90 di sas, però, jacky tar, allora, comune, rip, infliggi un danno, se la marea è alta, infliggi 6 danni, 6, 6, 6 danni di raccolto, raga, ma che cos'è, è fortissimo, fortissimo, non è un granché, non è un granché, illusione, 2, è una classica, è una classica ombra questa qua, però raccoglie, e se la marea è alta, infligge 6 danni, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ditemi in chat di che cosa stiamo parlando, vi sto fissando, vi sto guardando, uccide il capitano, vero, 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 grande sinergia, ci autodistruggiamo il capitano per catturare 2, no, no, bello, sì, ti danneggi il Simpson, però, raga, 6 danni, su una comune, cioè, immaginate trovare 3 per di sto coso, 3 per, 4 per, ne metti giù tutti insieme, l'avversario dice, oh, e io che cosa faccio? Cosa faccio? no, no, incredibile, guarda qua, incredibile, no, ste ombre, ste ombre sono spaventose, cioè, io non so, al momento, sì, non abbiamo visto chissà che cosa, però, secondo me, queste ombre sono spaventose, sono spaventose, ci manca solo che troviamo il troppo da proteggere dei sette mari, che, non so, ruba, ruba tutto, tranne 4, e poi siamo a posto, ombre diventa top tier di questa espansione, poi abbiamo il monello di mare, quello normale, che, sì, non è un granché, però, è antipatico, è antipatico, fa schifo, è, fa schifo, però comunque, un 1 con veleno, che, con gioco, marea alta, ruba 1, è fastidioso, è veramente fastidioso, iniziamo con gli staralli, vedo che c'è già gente che ha iniziato a sbavare per la Seasforge, allora, abbiamo l'Evil Twin di questa Rocketeer, e, boh, entra Reddy quando la marea è alta, va bene, poi abbiamo Scoot, Scoot, sapete che l'ho già rimosso, ma c'era in Mass Mutation sto coso, perché mi sembra familiare, non è la prima volta che lo vedo sto coso qua, però vabbè, Reddy usa una creatura amica, ma sì, certo che c'era in Mass Mutation, no? O è una delle prime carte che hanno spoilerato di questa espansione, però vabbè, passiamo alla Seasforge, facciamo le cose serie, allora, tornano le carte legge, oh, belle le carte legge, ve le ricordate le carte legge? Qual è stata l'ultima carta legge? Forse qualcosa degli staralli, o sicuramente il censimento, no, non il censimento, sì, il censimento, e il tomo, il decreto, la programmazione, come cazzo si chiamava, quella Sanctum di Age of Ascension, era una legge, no? Sbaglio? Vabbè, bella, a me piace tantissimo, perché è una carta che va pensata, play, metti due segnalini tempo su questa Seasforge, gli avversari, i giocatori non possono forgiare chiavi, all'inizio del tuo turno, rimuove un segnalino tempo dalla Seasforge, nel momento in cui non ci sono più segnalini tempo, si distrugge questo artefatto, bello, bello, bello veramente tanto, a me, allora, io vorrei un chiarimento di ruling su questa carta qua, però, a me sembra chiaro che, tutti quanti praticamente accumulano ambre, fino a quando questo artefatto non viene distrutto, però, all'inizio del tuo turno, tu, se questa cosa qua non ha più segnalini, si distrugge, e quindi, forgi, giusto? forgi prima dell'avversario, in poche parole, ditemi se sbaglio, perché se sbaglio diventa una carta di merda, secondo me, tralasciando questo discorso qua, a me piace, a me piace tantissimo, cioè, sta cosa di, diciamo, poter frizzare tutta la situazione, forgiature chiavi, che alla fine è l'obiettivo del gioco, è bello, è veramente bello, poi abbiamo una miglioria, penso che, o meglio, spero che vedremo meno migliori, meno migliorie di mass mutations, di questi staralli, perché, io non sono un gran fan delle migliorie, però, vabbè, a me non piace questa, ad esempio, se la marea è alta, la creatura guadagna schermaglia, se la marea è bassa, guadagna elusione, vomito, cioè, secondo me è vomito questa carta qua, perché conosciamo migliorie di vecchia data, che senza bisogno di interagire con la marea, fanno molto meglio, fanno molto meglio, non ti dà nemmeno un'ambra, sta carta qua, e che cavolo, so già che la trovo, che mi occupa lo spazio delle rare, di tutti i staralli che sbusto, sabotage mission, abbiamo, durante il turno dell'avversario, le chiavi costano più uno, per ogni, valore di, potenza, delle creature amiche, quindi, se voi avete una creatura, con tre di forza, quattro di forza, e cinque di forza, le chiavi dell'avversario, prossimo turno, costeranno più tre, simpatica, oserei dire, ovviamente dipende un attimo, cosa sbusti, perché, se trovi un mazzo, con solo carte, con forza diversa, è bruttino, poi, sì, ci sarà sicuramente modo, di poter giostrare, su questa cosa qua, ovvero dare segnalino più uno a uno, dare segnalino più uno all'altro, di qui e di là, e quindi, magari, fai finire che, le chiavi dell'avversario, costano più mille, in un turno, però comunque, boh, cioè, a me andava benissimo, siccome è un'azione, a me andava benissimo, anche una carta tipo, Ivolai, più tre, è buona, perché no, però dai, carina, carina, sono sempre belle le carte, di Ember Controllo, poi abbiamo l'Emberwack, che, vabbè, un upgrade, che alza la marea, questa creatura guadagna, all'inizio del tuo turno, se la marea è alta, catturi due, non lo so, non lo so, non mi fa impazzire, onestamente, anche qua, miglioria, senza ambra, purtroppo è una comune, è questa la cosa che mi spaventa di più, perché, se stiamo giocando contro Dark Titans, è improbabile, che la marea sarà alta, all'inizio del nostro turno, cioè, noi alziamo la marea, che il turno è già iniziato, quindi non catturiamo due, immediatamente, per dire, è una carta rognosa, però, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non mi, non, non mi fanno impazzire, cioè, anzi, mi fanno abbastanza vomitare, queste migliorie, posso essere sincero, poi, abbiamo questo tizio qua, se la marea è alta, le chiavi dell'avversario costano più tre, effetto play, effetto fight, effetto rip, classica star rally, bella, bella, sì, è, è un po' meglio del Garcia, conoscevamo già il retore, diciamo, che faceva più o meno la stessa cosa, in Sauriani, in WC, a me piace tanto questa, questa è una bella carta, speriamo di rivedere una carta tipo Medico Ingram, o altre carte tipo Town, terrognose, degli star rally della terza, perché carte di questo tipo diventano veramente, veramente frustranti, iniziamo la nuova casata, iniziamo la nuova casata, che, al momento, non mi sono fatto molte aspettative su questa casata, però, visto che sostituirà Dis, mi aspetto molto, mi aspetto veramente tanto, abbiamo, vabbè, qua iniziamo già, malino, oseremo dire, poison, taunt, vabbè, un evil eye, scusami, un evil twin, ok, poi abbiamo, sta bestia, 4-1, metti, una creatura, dalla pilla degli scarti, nella cima del tuo mazzo, a me questa piace, piace veramente, veramente tanto, è un bell'effetto, soprattutto, tutti quegli effetti che vanno a riprendere le cose nelle pille degli scarti, sono effetti che, ti danno, ampia manovra, ampia possibilità, di scelta, di qui e di là, quindi, carina, carina, questa, questa la trovo veramente, veramente molto bella, lentina, ma bella, peccato che è limitato soltanto alle creature, ovviamente, l'effetto, se no sarebbe stato veramente, veramente forte, anche questa è una delle carte più recenti uscite, al momento, se la marea è alta, esaurisce una creatura nemica, e l'avversario scarta una carta casuale dalla mano, bella, cosa devi dire, in realtà non mi fa impazzire, perché è un 3 di forza, senza illusione, senza niente, quindi sta sotto a un sacco di cose, però, è una carta antipatica, è una carta antipatica che devi assolutamente silurale, silurale, madonna, non so parlare italiano al momento, però, c'è Jackie Tarr, per questo, se i danni a una creatura, sti cazzi, quindi, sto Tom, Tom of the Glow, ci sta sotto, poi abbiamo un Omnipus, 8 di forza, questa creatura non può combattere, scarta, 8 cart, lo giochi, scarti 8 carte, la cima del tuo mazzo, metti ogni tentacolo in gioco, se vengono scartati in questo modo, rip, guadagni 1, per ogni tentacolo amico in gioco, i tentacoli cosa sono, questi qua, no, che carte sono i tentacoli, si sono viste o, perché, sono, bella, cioè, bella, non lo so, onestamente, cioè, quanti tentacoli genera questa carta qua, nel senso, è questo che mi sto chiedendo, 4, 5, 6, o 2, forse 2, tipo, penso 2, non di più, cioè, non lo so, sicuramente, sicuramente ci saranno delle carte procedurali, generate da questa carta qua, e il punto è che bisogna, fate come sto chiedendo, sono 8 tentacoli? Cioè, voglio capire cosa sono sti tentacoli, perché, cosa sono, creature spoglie, uno di forza? ci starebbe, può fare un sacco di porcate, creature che magari non possono ripare, io immagino che saranno creature che non possono ripare sti tentacoli, perché ripa già lui per tutti i tentacoli che ci sono in gioco, se ripano anche i tentacoli, è un disastro questa carta qua, cioè, è incredibile, vabbè, si vedrà, si vedrà, abbiamo una carta location, anche questa carta penso di non averla ancora vista, eh, giuro, mi è nuova, alla fine del tuo turno, metti un segnalino abisso, su questa trench, distruggi ogni creatura, di forza pari al numero, oh mio dio, ma è fortissima, cioè, alla fine di ogni tuo turno, tu metti un segnalino, su questa carta qua, e si distruggono tutte le creature, di forza uguale al numero dei segnali, ah, ok, 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 l'ho letta più lentamente, sospiro di sollievo, ok, non è pari o inferiore, ma è pari, però sti cazzi, cavolo, sì, non, non lo so, matchup dipendente, questa cara qua, matchup dipendente, e dipende un attimo, cioè, perché se le creature abissali, sono tutte, da otto forze in su, è veramente forte, sto carta qua, veramente, veramente forte, lentissima, perché ora che arrivi, ad esempio, a cinque segnalini, cioè, ne passano di turni, però, wow, wow, no, non si resetta, a me non mi, c'è scritto che si resetta, scusami, alla fine del tuo turno, metti un segnalino a profondità, abisso, su, questa trench, distruggi tutte le creature, con forza pari al numero di segnalini, su questa trench, quindi, non si resetta mai, va sempre avanti, quindi, prima le creature di, di forza uno, poi le due, poi le tre, poi le quattro, poi le cinque, eccetera, 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 cazzo, cioè, ovviamente dipende da tantissime cose, è una bomba, è veramente una bomba, dopo che il tuo avversario forgia una chiave, esaurisce ogni, ah, scusami, esaurisce ogni creatura che controlla, ok, sì, carino, carino, sì, carino, molto, molto carino, bell' artefatto questo, direi di sì, direi che è proprio un bell' artefatto questo qui, va bene, va bene, più che altro che, mi piacciono questi effetti, diciamo, che vincolano un po' l'avversario, che interagiscono con la board, che ricordano un po' d'Is, vagamente, in modo diverso, ovviamente, poi abbiamo Taniwa, che abbiamo già visto la versione, Evil Twin, che a me piace, che, fight, rip, distrugge una creatura amica, guadagni uno, non lo so, andrà in sinergia con i tentacoli, non, boh, è da vedere, è da vedere, carino, non lo so, non mi fa impazzire in realtà, è un bel ciccione, però che cavolo, sti effetti rip, che distrugge una creatura alleata, boh, bisognerebbe avereci qualcosa da metterci in sinergia, capito, tipo, this, di Mass Mutation, poi abbiamo The Chosen One, il prescelto, invece di ripristinare le creature che controlli, durante la fase, ripristina, l'avversario infligge uno per ogni creatura esausta, ok, allora, praticamente, l'avversario non ripristina le sue creature, ma infligge un danno a questa creatura per ogni creatura che dovrebbe ripristinare, giusto, l'ho letto bene, l'ho tradotto bene, forte, forte, non è una carta che ha lunga vita, presumo, però è forte, è veramente, veramente forte, cioè, se lo giochi, diciamo, in sinergia con robe che esauriscono già le carte dell'avversario, e quindi l'avversario non ha modo, attraverso la board, di provare a contestare questo coso qua, questo coso qua è veramente forte, poi vabbè abbiamo il valo canto, sti cosi qua, poi, dopo che la marea è stata alzata, cattura due, ok, dopo che l'avversario ha alzato la marea, muovi due nella common supply, molto, molto bello, questo è molto, molto bello, ovviamente dipende dal matchup, dipende da tante cose, però è veramente, veramente forte questo qui, a me piace tantissimo, a me piace veramente, veramente tanto, poi abbiamo Cheope, penso sia, il tuo avversario non può giocare più di una carta per tipo, è tornato, l'ember imp, la carta che tutti volevano, ma che non vogliono giocarci contro, mi ricorda tanto, dis, questa carta qua, ottima, veramente, veramente ottima, che cancro, che cancro, sia in modo di proteggerla, potenziarla, difenderla, è incredibile, è veramente un cancro questa carta qua, mamma mia, una carta e basta per tipo, che disastro, che disastro, forte, forte, veramente, poi abbiamo, sto coso qua, che non hanno tradotto l'effetto, dopo che una creatura nemica raccoglie, non, non si ripristina nella sua fase di ripristino alla fine del turno, ok, carino, carino, molto carino, tra l'altro, è un uncommon, pensavo fosse comune, va bene, distruggi ogni creatura esaurita, abbiamo, finalmente, un vero Borkliar, ovviamente bisogna metterlo in sinergia con robe, però, fa paura, fa paura, anche questa carta qua, se la marea è alta, il tuo avversario perde due in combattimento, combattimento, distrutto, alza la marea, scegli uno, affonda o nuota, anche qua, carte che vengono riproposte, magari ce ne sarà una per casata di queste carte qua, è comune, tra l'altro, il tuo avversario scarta una carta a caso dalla mano, o esaurisci una creatura e ogni suo vicino, non ha ambra, quindi non è un granché, sicuramente è più forte la carta Logos che abbiamo visto all'inizio, però, carina, carina, dai, direi che c'è di meglio, eh, di, però è una carta fastidiosa, è veramente fastidiosa, guardiamo i Selvaggi, ecco, Selvaggi, non lo so, adesso non me le ricordo molto bene, ma niente di buono da quel che mi ricordo, in realtà si è visto veramente poco, però, è presto per parlare, allora, se la marea è alta, dopo che, giochi un'altra creatura, l'avversario perde uno, molto molto forte questo, questo, senza ombra di dubbio, questo è forte, però, è una versione, evil twin, quindi, io presumo, che la versione, quella normale, dovrebbe avere l'effetto opposto, ovvero, se la marea è alta, quando tu giochi un'altra creatura, guadagni uno, spero che sia così, quindi una sorta di ritorno, del, dello stregone cacciatore, in meglio, perché, va bene che c'è la questione della marea, però, eh, c'ha illusione, sta carta qua, quindi, non lo so, non abbiamo ancora visto la carta, quella normale, spero, spero che sia, così, spero che sia così, poi abbiamo, il pescatore, sto, sto orsetto qua, che onestamente a me fa impazzire la, la artwork, ma in generale, le artwork delle evil twins sono tutte belle, raccolto, scarti una carta dal fondo, del mazzo dell'avversario, eh, o, eh, scusami, scarta, la carta in fondo, dal mazzo dell'avversario, o, tre in fondo, se la marea è alta, ok, o tre se la marea è alta, distrugge una creatura che condivide, eh, una casata, ok, di una di quelle scartate, brrrr, bella, 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 ovviamente, molto carino, eh, molto più carino l'effetto, diciamo, quello con la marea alta, perché hai più probabilità di, fare, una rimozione, con un raccolto, tanta roba, no, dai, ci sta, una bella carta, mi piace, mi piace, mi piace veramente tanto, un po' randomica, sì, però se la marea è alta, è veramente, veramente forte, dai, ci sta, fortuna che non hanno fatto, condivide un tratto, perché se fosse stato tratto, ciaone, ma, condivide casata, cioè, hai una probabilità su tre, praticamente, poi, dipende, ovviamente, poi abbiamo lo squalo, di ambrafina, penso, penso sia, gioco, metti tre segnalini, più uno, su questo coso, alla fine del turno, rimuovi un segnalino, più uno, dallo squalo, se lo fai, ogni giocatore guadagna uno, che tristezza, perché ogni giocatore, perché devi fare queste cose, squalo, no, non mi piace, questo squalo non mi piace, posso dire che non mi piace questo squalo? posso dirlo? Questo qua, già lo conosciamo, questa nave, raga, questa nave, alla fine è un forza 5, no, si, inizia che è un forza 6, poi alla fine del turno è un forza 5, poi diventerà un forza 4, poi è un forza 3, solo che, ogni, alla fine di ogni turno, entrambi i giocatori, guadagnano uno, non mi piace, raga, perché, se tu vai guadagnare uno al giocatore, così in automatico, alla fine del turno, rischi magari di fargli forgiare, la chiave, prima di te, non, non mi piace, non mi piace, avrei preferito molto di più, se fosse stato, o all'inizio del turno, o alla fine del turno dell'avversario, diciamo, ma così, non mi piace, non mi piace, veramente, poi non parliamo di questa nave, raga, cioè, io veramente, questa nave, secondo me, sarebbe stata, pisellabile, diciamo, se, eh, l'effetto fosse stato, diciamo, passivo, ovvero che, entrava pronta, ad esempio, però, cioè, la devi giocare, non guadagni ambre, azione, quindi la esaurisci, esaurisci, una o più creature per forza, untamed, per dare più tre per ogni creatura, a questa nave, e la metti nel campo di battaglia, con taunt, si, giochi una creatura con taunt, ma, devi rinunciare, a quanti raccolti, per, giocare questa nave qua, cioè, almeno, se fosse entrata ready, diciamo, questa nave, poteva magari, combattere immediatamente, al posto di qualcun altro, poteva, non lo so, sto cercando di giustificarla, però, è veramente orribile, cioè, ditemi se mi sbaglio, ma, eh, nave decisamente, da affondare, davvero, cioè, l'artwork è bellissima, sono d'accordo, perché, diciamo, facciamo questa analisi dell'artwork, cioè, ricordano la punta, la punta della nave, ricorda un po' la punta di un pesce spada, quindi c'è questa fusione tra, eh, l'architettura della nave, e l'anatomia del pesce, però, che cartaccia, è orribile, è orribile, ditemi se sbaglio, ma questa carta è orribile, poi abbiamo, alza la marea, infuria, due creature nemiche, pulita, semplice, ti dà l'ambrina, carina, ci sta, poi abbiamo il pescatore, versione buona, che dice, eh, scarta una carta dal fondo del mazzo, scartane tre, se la marea è alta, gioca ogni creatura, cartata in questo modo, una alla volta, scartata in questo modo, una alla volta, è molto più fico questo, di quello cattivo, secondo me, cioè, allora, perché, allora, questo qua, scusami, distruggi, una creatura, che condivide, un, eh, con una casata, delle carte, quelle scartate, no? quindi, cioè, tu distruggi sempre comunque una creatura, e basta, capito? Cioè, non è che ne distruggi tre, ad esempio, ne distruggi sempre una, diciamo che scartandone tre, hai più probabilità di distruggere la creatura dell'avversario, tutto qua, ma questo, cioè, adesso, io spero che non, non generi cartacce, tipo pesci che non fanno nulla, queste cose qua, però l'effetto è veramente forte, di questo qua, cioè, gioca ogni creatura scartata in questo modo, poi sì, è randomico, va a culo, però, con un raccolto, giochi tre creature a gratis da, non dalla mano, ma direttamente dal mazzo, che magari puoi mettere in sinergia, con sto Chelonia, che chissà com'è quello, quello buono di questo Chelonia, allora, questi selvaggi fanno vomitare, ma perché abbassa veramente la media, questa nave, cioè, e questo squalo, però dai, sono carte rare, io, ho tanta fiducia, perché, a me questa espansione, spaventa, veramente, 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 tanto, ho una piccola sorpresa per voi, siete pronti? Sto già ridendo, sono un coglione, scusatemi, potete perdonarmelo, è che veramente, la mia mente da gemello malvagio, ma, ma, ma ha fatto pensare questa cosa qua, però, mi spiace dirvelo, ma, ho una sorpresa per voi, ho una sorpresa per voi, quindi, adesso lo faccio seriamente, ragazzi, come se non vi avessi detto ancora nulla, ho una sorpresa per voi, ho delle carte in esclusiva, da spoilerarvi, siete pronti? G-G-G-G-G-G-Baited, G-G-G-G-Baited, G-G-G-G-G-Baited, G-G-G-G-G-Baited, G-G-G-G-Baited, G-G-G-G-Baited, allora, intanto, preparo, la postazione, per l'unboxing, eh, adesso facciamo l'unboxing, G-G-G-G-G-Baited, G-G-G-G-G-Baited,